ciao a tutti eccoci alla seconda parte dell'intervista con il maestro Andrea Citarelli direttore tecnico AKEA è uno dei miei insegnanti eccolo qua ciao Claudio Andrea allora l'altra volta eravamo rimasti siamo arrivati alla parte tattica iniziale dell'approccio alla difesa personale incominciamo a scendere nei particolari dell'approccio invece fisico e tecnico ok è più o meno complicato di quell'altro di cui stavamo parlando della parte preparatoria e preventiva più complicato più complicato perché la prima parte è più nozionistica c'è da una parte il docente che dà delle informazioni quanto più possibile dettagliate accurate supportate da analisi testi prove eccetera eccetera e uso anche di video per dimostrare certi elementi comunque è una informazione adesso la parte complicata è portare quelle informazioni a livello pratico e a livello pratico uno dal punto di vista comportamentale quindi se alla fine uno studente che sia esso corso di difesa personale per privati cittadini un operatore eccetera quindi studente della della classe acquisisce le tecniche però sopravvaluta o non tiene conto del contesto mentre cammina per strada quando entro in un locale o quando si confronta con persone sconosciute la la mera conoscenza o la mera capacità di poter utilizzare quelle tecniche non hanno alcun senso perché magari rischio di potrei rischiare di utilizzare una determinata tecnica una determinata opzione di forza in uno scenario nel quale magari questa non è la richiesta quindi ecco l'aspetto comportamentale che non deve essere mai separato dalla capacità di valutazione nella prima parte avevo fatto riferimento a un allenamento classico della tecnica dove nella classe per abituarsi ad avere l'oppositore più alto più basso più forte più leggero eccetera eccetera a turno si cambiavano quindi un round di tre minuti cambio partner tre minuti cambio partner ma allenavo la stessa tecnica a prescindere da chi avevo davanti a me nel campo della difesa personale invece questo ha un peso importante perché se l'alto è più leggero di me o più pesante di me fa la differenza e quindi ecco come poter allenare quindi qua prendo la tecnica per abituare allievo a mantenere viva l'attenzione nel decidere quale opzione di forza utilizzare posso cambiare il partner di allenamento ma poi devo valutare qual è l'opzione di forza più utile in alcuni casi posso tirare uno strangolamento fino a addormentare il mio partner e in altri casi non vado a strangolare ma vado semplicemente a mantenere a limitare le possibilità di movimento dell'altro per esempio vi servite di attrezzature particolari per provare alcune cose per esempio dei calci verso le ginocchia come io ho ancora i paratibie da ok per provare alcuni tipi di calci bassi che cosa utilizzate per per poter dare il cento per cento per esempio in determinate zone allora innanzitutto la preparazione non è tra allievi quindi chi fa questo chi utilizziamo delle best particolari per quanto riguarda gli arti inferiori la testa da ok va più che bene sia a livello del paratibia che per il ginocchio per per le gambe quindi la testa da ok è generalmente abbastanza funzionale allo scopo poi dipende se l'allievo molto imponente certo un calcio nel ginocchio diventa lo stesso in peristensione in grado di roba dipende poi da dove arriva la best sulla parte alta è un proprio best è quello che ho prodotto che ho io preso negli Stati Uniti che è in grado di supportare urti molto molto importanti anche addirittura dei tondini di ferro del peso di due chili lanciate a due mani di punta al petto è in grado di assorbirlo quindi molto importante è una sorta di Redman magari più conosciuto io l'ho sperimentato entrambi e con questo mi trovo meglio è in grado di proteggere le spalle le articolazioni le clavicole le braccia eccetera da più libertà di movimento come maggiore libertà di movimento anche sì sì sia una buona abbastanza abbastanza è un compromesso diminuisce la capacità di attutire l'urto e ha più movimento e inversamente in maniera inversamente proporzionale se aumenti la capacità di resistere all'urto diminuisce però il movimento quindi in realtà la nota dolente di ogni protezione resta la cervicale questa è la sì come anche con i caschetti che hanno la tirata davanti comunque la botta nel collo si sente noi mettiamo il caschetto con una protezione in plexus davanti in grado di supportare dato che l'incastro ha un gioco tale della maschera che permette di attutire in maniera abbastanza importante però alla base di questo queste protezioni non le tengono gli allievi ma gli istruttori che sono già preparati all'aggiunzione di questi impatti per due motivi uno per non dare false risultanze alla all'allievo all'allieva ad esempio non basta che mi colpisci vado giù cioè l'istruttore è abituato a capire malgrado le protezioni dire ok questo colpo senza le adeguate protezioni mi avrebbe causato un danno o quantomeno una destabilizzazione non mi basta che tu mi colpisci vado giù da una parte o dall'altra parte effetto highlander non vado mai giù cioè e questo va a demotivare il lo studente o la studentessa della classe e soprattutto non è reale perché se arrivi se serve una reazione c'è quindi voglio dire se tu porti un colpo verso il mio volto la reazione c'è o perché mi hai preso e quindi vado indietro o non mi hai preso e per dato che l'ho percepito vado indietro io ma una reazione la sia comunque quindi devo lavorare anche sulle reazioni che la mia azione comporta e però per questione di sicurezza quindi uno perché l'allievo magari prende i colpi e li prende male quindi l'allievo una questione di sicurezza e per una questione di formazione quindi non rendere la pratica o troppo leggera insignificante oppure effetto highlander altra persona ha dato 50 ginocchiate e non è successo mai niente perché ho le protezioni no quindi l'istruttore è in grado di capire se quell'impatto avrebbe causato un danno oppure no ecco perché non è i corsi di difesa sono a me piacciono molto perché ecco è un insieme di fattori molto stimolante sì 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 è molto più complessa come materia tra l'altro e poi c'è anche una responsabilità per esempio ok io sono professionista di atti marziali vivo di questo ho sempre fatto questo nella mia vita insomma quindi però il mio senso di responsabilità è questione di onestà intellettuale nell'insegnamento dell'arte nel rispetto dell'arte stessa nel rispetto del tempo che il mio allievo mi dedica dei sacrifici che fa per seguire le mie classi quindi è proprio una questione di rispetto di onestà intellettuale onestà professionale nei corsi di difesa personale sento personalmente il peso della responsabilità perché nel corso di arti marziali se il mio insegnamento dovesse essere leggero superficiale ok male che va il mio allievo non sarà non diventerà a sua volta un insegnante importante se porto un atleta in gara non vincerà mai nessun torneo sì non sono un buon insegnante ma finisce lì non essere un buon insegnante nella difesa personale è molto più grave perché devo devo sentire devo vivere la responsabilità di quel momento perché se ciò che io sto facendo non è non è sufficiente la persona la quale sto insegnando sta mettendo in gioco la sua vita non è una gara cioè male che va perde una medaglia e qui parliamo di altro di cose molto importanti e quindi è anche qui quindi questa responsabilità però si deve trasformare in onesta professionale perché è vero che è un gioco di squadra nel senso che io onestamente faccio tutto il mio però anche tu poi mettici del tuo no ok devi anche impegnarti lavorare eccetera eccetera se vivo questo elemento come un elemento di responsabilità però con responsabilità devo dire a al mio allievo guarda lasciamo stare abbiamo scherzato se vuoi abbiamo la classe amatori partecipi a quella classe non è questo il corso di difesa vieni qui per giocare qui non stiamo parlando di gioco quindi se vuoi giocare giochiamo e viene a fare un'altra cosa per carità non ti sto escludendo no ma qui parliamo di questo parliamo di un tentativo di stupro parliamo di una aggressione a mano armata parliamo di non stiamo giocando ma anche per una questione di di riuscire a creare un certo mood che ti serve a quel tipo di allenamento perché se siamo possiamo possiamo scherzare e fare una sessione di sinaguali ma non possiamo scherzare un attimo dopo parlare di un argomento del genere se non riesco a farti entrare nella mentalità di una persona che probabilmente sta per subire qualcosa di grave cioè sono due approcci molto molto diversi sono completamente differenti cioè quando abbiamo la classe serale degli arti marziali di adulti eccetera soprattutto persone appassionate che dopo una giornata di lavoro mi dedicano del tempo io sono contento ho una percentuale di classi adulti molto più alta rispetto alla classe giovanile per esempio e e questo mi gratifica perché ho persone davanti mature adulte eccetera eccetera che alla fine di una giornata di lavoro vari impegni famiglia mi dedicano del tempo però capisco che loro vengono perché in quell'ora devono staccare la presa quindi fanno le cose seriamente con attenzione ma con la giusta leggerezza che ti permette perché altrimenti vai a fare zoom è capito quindi è questo questo giusto rapporto il corso di difesa personale non possiamo farlo per un anno due anni proprio perché mentalmente non posso vivere tutta la durata del corso in questa maniera no quindi ecco perché è lo stretto necessario dopodiché io ti dico a meno come funziona con le mie come modo di lavorare o passi ad approfondire certe tematiche oppure basta è chiuso è preso quello che ti serviva è finito lì e torniamo a giocare a tennis va benissimo no però non praticare per dieci anni il corso di difesa non è un corso di difesa no cioè è altro certo quindi non ci sono gradi nel corso di difesa che che cosa mi indica che sei cintura arancio di o nera di difesa personale di che cosa andrea nel all'interno di un corso di difesa personale fai anche utilizzo il coltello sì sì dal punto di vista di responsabilità come te la gestisci ho spiegato bene prima quando e perché devi fare un uso di un livello di forza letale o potenzialmente letale evidentemente ti trovi di fronte ad una minaccia potenzialmente letale o di grave danno fisico quindi non è lo strumento di per sé che determina io potrei utilizzare una sedia con una finalità letale no certo quindi non è lo strumento che determina la gravità e la modalità di utilizzo quindi se però io mi dovessi trovare in un contesto di aggressione in casa e utilizzo quello che ho se ho avuto la fortuna barra capacità di riuscire a far cadere o far perdere l'arma al mio aggressore su strada e la prendo non è che la lascio lì la prendo stamattina stamattina non avevo il caffè ho dimenticato di comprare il caffè ok avevo bisogno di qualcosa di dolce da appena sveglio ho detto cavolo non c'è il caffè che mi prendo ho preso ho aperto la la nutella no quella 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 grossa quella da 5 euro e io ho pensato cavolo però se entra qualcuno in casa questo è pesante cosa cosa ho a disposizione ok ho il lioncino ho il lioncino cinese in bagno quelli lì leoni cinesi quelli lì la riproduzione piccola fatta in pietra e quella pesano 45 chili mi ricordo comprai tanti anni fa un un libro che si chiamava l'arte la difesa personale ma era un libro comunque co eh ironico molto divertente e però dentro c'erano delle idee e una delle idee era quella di lanciare il gatto verso l'aggressore che ti entra in casa al di là dello scherzo abbiamo già accennato nella parte uno la la questione armi occasionali che altro che altro possiamo dire sull'argomento dal punto di vista applicativo delle armi occasionali quindi non parliamo di della mag light del peperoncino ma proprio di altri oggetti dell'uso di altri oggetti per esempio in casa allora sono tutti gli oggetti hanno un potenziale eh utilizzo eh a scopo difensivo il presupposto però è pensarli come oggetti difensivi eh sì sì quindi finché qualcuno non mi dice guarda che con una penna ti puoi difendere a mia zia non gli verrebbe in mente di utilizzare la quando ho comprato quando ho comprato questa da Ikea e questo ho letto il calcestruzzo ho detto cavolo questo per i video va bene ma anche posso utilizzarla perché pesa un tre quattro chili questa cosa eh vabbè poi ovviamente ci sono anche i casi come noi che ovviamente hanno anche qualcosa di vediamo in ogni contesto una situazione eh però è proprio qui quindi eh una prima suddivisione eh la si fa con gli allievi ed è proprio imparare a guardarsi intorno e individuare quindi oggetti da taglio oggetti da punta oggetti da lancio oggetti flessibili quali sono quali pensiamoli scriviamoli perché la mia mente li deve pensare li deve vedere quindi è segnato di riconoscerli e li deve maneggiare a scopo difensivo perché finché io non prendo un paio di pinze la prima volta ma eh qual è il modo migliore per e non lo posso sperimentare in quel contesto lo do sperimentare nella fase formativa quindi mi capiamo di punto di chiedere ok la prossima volta portate oggetti comuni oppure abbiamo utilizzato quello che è qui in palestra eh sperimentando perché se prendo la la cassetta porta oggetti come la impugno il libro come lo impugno e quali sono i target principali eh una bottiglia la la sedia come la impugno alla maniera più efficiente e più efficace possibile quali potrebbero essere i bersagli in funzione del livello della minaccia perché io con una sedia posso tenere il mio aguzzino lontano o gli posso creare un danno potenzialmente letale è lo stesso strumento ma la finalità qual è la devo la devo valutare in base alla minaccia che mi sta ponendo quindi è sempre una partita a scacchi è sempre un'attenzione costante quindi non devo mai far modo che il mio stress mi faccia velo bianco e poi faccio delle cose le quali invece me ne potrei pentire tante volte analizzando fatti di cronaca intervistando persone che sono state oggetto di aggressione per le quali magari hanno fatto uso di forza letale qualche volta è sfuggito sfuggite la risposta a domanda se lo rifarebbe no non lo rifarei attenzione perché se non lo rifaresti vuol dire che adesso a mente fredda hai valutato che avresti avuto in quell'occasione altre opzioni di e invece hai scelto di e allora non era allora quel discorso non era l'estrema razio se stiamo parlando di una situazione in cui c'è un giudice che ci sta giudicando per l'azione che abbiamo messo in pratica io capisco magari non sono sempre preparati a pensarla in un certo modo però il discorso stress adrenalina e io che sono in panico in situazione di panico non raramente viene presa in considerazione no 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 allora le nuove disposizioni in tema il legislatore ha previsto situazioni di minorata difesa cioè quando io ho per condizioni di situazione stavo dormendo sono stato svegliato di all'improvviso tra di notte non sono nelle stesse condizioni psicofisiche di valutazione della minaccia in un contesto diverso il legislatore ne tiene conto di questo ecco perché la mia reazione potrebbe essere leggermente più alta perché in quel momento non ho non ero in grado di valutare quindi questa attenzione c'è sì non voglio non voglio entrare oltre perché sono sicuro che con il tuo amico magistrato questo è un tema che potrà essere sviscerato con maggiore attenzione e accuratezza ed evitiamo di dare magari informazioni che potrebbero essere non del tutto corrette però queste sono valutazioni che comunque vengono fatte in linea di massima devo tenere conto che tutta la giurisprudenza però mette in primo piano il bene vita il bene vita è superiore a qualunque altra cosa quindi devo parlare di bene vita e ho il bene vita verso mio della mia famiglia e tre bene vita mio quindi sono sono veramente in grave pericolo di vita o tale lo percepisco perché la situazione me lo fa vedere me lo fa credere e il bene vita dell'aggressione dell'aggressore il bene vita personale e della famiglia viene prima ma il bene vita dell'aggressore viene comunque prima di qualunque altro bene materiale quindi non posso venire in meno a questa a quest'idea per difendere il bene materiale però nemmeno mi devo mettere nelle condizioni di cioè non il fatto che io abbia un'arma questo ok allora esco sul giardino quando vedo qualcuno che sta entrando devo mettere in campo tutte le condizioni affinché lui possa desistere dal suo intento certo ci sono delle preclusioni non voglio anticipare nulla così magari la prossima volta nel prossimo appuntamento con il magistrato possiamo proprio valutare questi elementi dal punto di vista tecnico tattico e ciò che dice la giurisprudenza perché sono dei fattori che purtroppo da tecnici dobbiamo valutare la difesa preventiva legata al fatto che sotto sotto la distanza di un braccio chi parte per primo arriva quindi proprio la capacità di percezione reazione è a sfavore di chi si deve difendere ecco perché la gestione della distanza risulta essere fondamentale però nel suo tempo non è facile giustificare il fatto che io abbia dato un pugno per il primo perché ho pensato che l'altro mi potesse colpire su quale basi su una mia interpretazione se sto in casa se sto in casa e vengo è diverso è diverso però capisci che con questa logica posso subentrare diversi fattori no magari io ti invito a casa però abbiamo una questione da risolvere ti invito a casa per una birra e poi dico no veramente mi ha aggredito no può essere può essere un problema allora per questi per questi motivi l'evoluzione della minaccia deve essere oggettiva cioè deve essere elementi oggettivi ok ok poi tornando al discorso tecnico approfondiamo un pochino Andrea inoculazione da stress sì allora avevamo un pochino accennato nella parte nella prima parte allora si può fare su diversi diverse modalità uno spettamente lo stress fisico quindi semplicemente analzare innalzare la frequenza cardiaca va bene vengono meno la capacità le capacità fini ma in seguito ad una corretto addestramento tecnico classico nelle arti marziali per esempio si è comunque in grado di risolvere questo problema perché però è semplicemente un innalzamento della frequenza cardiaca non è dovuto ad uno spavento per esempio quindi ricreare momenti di spavento non è così facile ci sono ci si ci sono delle immersioni in alcune situazioni con alcuni soggetti più facile con altri pochino meno però l'elemento dove andiamo ad abbinare a un incremento della frequenza cardiaca con un momento legato alla capacità decisionale o porre il soggetto in una situazione di dover decidere che cosa dover fare in tempi brevissimi crea molto stress quindi eh devo valutare quale opzione di forza da utilizzare di fronte a un determinato ehm scenario richiede tempo e richiede molto molto addestramento Andrea quando ho fatto la registrazione per malti marziali due era uscito in mezzo l'argomento stress per una questione di allenamento sotto stress o allenamento senza senza stress per quanto riguarda la stile tradizionale versione sportiva parlando logicamente della possibilità che danno le gli sport da combattimento di avere delle piccole inoculazioni da stress anche il fatto di stare di fronte a una persona che tu non conosci e combatterci e full contact è un bello stress se non sei abituato certo ehm io avevo accennato a un a un libro poi mi sembrava un po' ridondante come cosa però in questo ambito mi sembrava interessante aggiungere una cosa che magari ci dà ci dà anche un un input in più per parlare di alcuni argomenti io adoro leggere di di queste cose da Grossman John Boyd eh per quanto riguarda eh c'è questo libro spero che si veda bene eh la parte sono due libri in pratica questo qui la parte evoluzione del cervello e comportamento umano di McLean lui parla della teoria dei tre cervelli sì ognuno li chiama in modo diverso diciamo roboencefalo mesencefalo e corteccia va bene diciamo la la parte più è fatto dall'interno verso l'esterno denominati esatto sì sì infatti ehm eh allora in pratica lui lui dice che facendo degli esperimenti su alcune scimmie e mettendo degli elettrodi all'interno del cervello degli delle scimmie dando delle scariche elettriche i neuroni hanno difficoltà se non addirittura arrivano a una totale incapacità di potersi spostare all'interno e di passare dal mesencefalo alla corteccia in pratica che logicamente gli animali nei mammiferi è meno sviluppato in pratica quello che dice è che in una situazione di stress di lotta per la sopravvivenza quale può essere un forte dolore improvviso i neuroni non riescono a spostarsi nella parte del cervello che invece è più razionale ok allora e questo praticamente significa che se non mi alleno sotto stress non riesco a fare quelle cose sotto stress diventa eh allora sai devo devo ecco qui la scelta del programma eh e e e quante queste cose quanto questo argomento non possa essere improvvisato se nel campo delle arti marziali noi abbiamo una progressione di livelli l'aspirante allenatore l'allenatore l'istruttore il maestro il docente ok che rappresenta quindi una una certa abilità didattica e con relativa conoscenza didattica che fa crescere nel suo tempo anche il gruppo al quale è rivolto l'insegnamento di queste figure no nel campo della difesa personale non ci può essere questa distinzione cioè chi si occupa di difesa personale c'è solo un livello e deve tendere al livello più alto possibile altrimenti non si insegna difesa personale proprio perché è un è un mondo che ehm si va a le radici di questo aspetto vanno a toccare così tante tanti argomenti dal dall'aspetto come funzioniamo noi come esseri umani l'aspetto giuridico giuridico l'aspetto tecnico l'aspetto comportamentale l'aspetto psicologico non dico che ogni insegnante debba essere altamente formato laureato ed esperto in ciascuno di questi settori impossibile ma che abbia avuto il tempo però di leggere formarsi discutere provare sperimentare queste aree senz'altro quindi capire come funzioniamo claudio notiamo che ancora non siamo arrivati a che cosa facciamo fare le tecniche quando parleremo di arti marziali parleremo di sinaguali di baton di sipa e besotto nella terza parte qui ancora non siamo riusciti a toccare quell'argomento però per poi perché ecco adesso ho tirato fuori quest'altro libro interessantissimo perché tocca un altro aspetto quello che quello che il mio corpo legge che sente che vive in quel momento di forte stress quindi cosa vuol dire che tutto tutto ciò che noi riusciamo a fare nella nostra palestra mentre ci alleniamo noi stiamo lavorando con l'aspetto razionale del nostro cervello quindi siamo in grado di capire leggere interpretare pensare elaborare in maniera del tutto normale e sappiamo me e siamo e siamo in grado di mettere in campo tutta la nostra esperienza quando ci troviamo in quello in quella condizione invece ci avviciniamo a quello che viene viene detto poi il cervello rettiliano no quindi pò vado a chiudere e vado a rispondere con delle azioni più emotive più sincere più vive più basilari del nostro essere vivente non più essere umano ma essere vivente così come fa il nostro cane il nostro gatto di fronte ad una condizione di forte stress la mentalità di combatti o fuggi o rimanere paralizzato che fa parte del nostro essere esatto che però il freeze è quello là che era quando noi eravamo non all'apice della catena alimentare e quindi in quanto più eravamo vittime o potevamo essere vittime cosa fa il gatto quando si sente spaventato si blocca poi capisce il pericolo è passato e continua a camminare e noi facciamo la stessa cosa noi facciamo la stessa cosa anche semplicemente ho dimenticato le chiavi a casa e mi blocco per un attimo mentre cammino abbiamo un momento sul torro che chiudo e quello lì c'è quello lì c'è comunque a quello poi deve seguire una risposta automatica quindi la mia prima reazione noi siamo in grado di tutti noi tutti noi siamo in grado di mettere in campo la nostra esperienza nel momento in cui abbiamo il tempo di metterla in campo adesso in base al livello di pratica questo tempo tra la percezione della minaccia e la mia reazione questo tempo può variare in base alle nostre abilità in base alle nostre capacità in base al tempo di addestramento specifico sulla analisi percezione e reazione e sullo stato mentale di fondo perché se io mi trovo in una condizione nella quale sono pronto sono presente a me stesso perché mi aspetto che potenzialmente potrei subire un'aggressione perché sto rientrando ho parcheggiato l'auto alla stazione e tardi eccetera eccetera il mio atteggiamento è pronto se qualcosa o qualcuno dovesse attirare la mia attenzione sono pronto ad agire quindi riduce il tempo percezione e reazione se invece mi trovassi in una condizione totalmente rilassata tranquilla sono in spiaggia prendere il mio tè freddo e mi volta il mio visivo come mi viene ad aggredire questo tempo di che sta succedendo e da lì reagire è più ampio quindi il nostro stato mentale di fondo fa la differenza e comunque sia poi io in quella condizione andrò a rispondere quindi la nostra esperienza entra in gioco in base al tempo che abbiamo per stiamo guidando la nostra auto e ormai abbiamo la patente già da qualche anno quindi abbiamo acquisito dei tomatismi abbiamo fatto tanta esperienza sono in grado di poter valutare i rischi e abbiamo capito che di fronte ad una minaccia abbiamo diverse opzioni potrei inchiodare rallentare freno motore decidere di buttarmi a destra di buttarmi a sinistra valuto in tutto questo abbiamo guardato gli specchietti laterali lo specchietto retrovisore così ho valutato no se inchiodo quello dirmi è troppo vicino mi mi tampona allora non inchiodo ma anzi accelero e cerco di evitare la minaccia il pericolo in tutto questo ho avuto il tempo di guardare gli altri automobilisti negli occhi mi hai visto io mi butto a destra tu vai a sinistra tutto questo in quanto tempo in una frazione di secondo riusciamo a passare la minaccia il pericolo poi dobbiamo accostare perché abbiamo qui lo scarico di adrenalina il cuore a mille e via dicendo ma in quel momento abbiamo reagito prontamente valutando una serie di possibilità il neopatentato invece cosa avrebbe fatto di fronte alla medesima minaccia quante opzioni conosce una il freno e inchioda inchioda incurante se l'automobilista che gli sta dietro è troppo vicino se il l'asfalto era bagnato oppure no se la distanza era idonea oppure no ok lui non vale da nulla usa l'unica opzione che ha inchioda ma anche noi automobilisti esperti faremmo la stessa cosa se ci fossimo trovati troppo vicini al pericolo perché magari in quel momento stavamo parlando con il nostro compagno di viaggio o un momento di distrazione la prima reazione istintiva quella lì la prima reazione dato che ormai sono troppo vicino troppo vicino uguale meno tempo meno tempo uguale reazione istintiva quindi la mia esperienza non ho potuto valutare non ho potuto utilizzare noi funzioniamo nella stessa maniera quando parliamo di difesa personale quindi è vero che contro un pugno abbiamo un ventaglio di tecniche incredibile dipende solo da quando vedrò quel pugno se lo vedrò altrimenti quando lo vedo la mia reazione sarà quella di chiudermi come farebbe anche mia zia cioè nulla di più quindi noi siamo capaci tanto più quanto il nostro aggressore ci dà modo di poter mettere in campo la sua esperienza altrimenti se è bravo se lui è bravo andrà a vanificare tutto questo ed è qui la differenza tra minaccia e attacco no no scusami vai 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 no giusto per ecco per deciso perché poi da qui subentrano le altre tecniche no c'è l'altro discorso perché la minaccia è qualcosa che per quanto grave possa essere non esclude il fatto che si possa verificare o che possa essere attuata dopo una minaccia di morte non vuol dire che dopo non si potrebbe verificare non lo sappiamo una cosa so che in questo esatto momento non si sta verificando altrimenti l'altro l'avrebbe già fatto quindi la minaccia in cui è visibile mi stai minacciando con un coltello eccetera eccetera evidentemente non è questo quello che vuoi almeno per ora vuoi da me qualcos'altro e quindi io lì ho un momento ho un tempo di gestione della situazione che va spiegato e insegnato agli allievi non 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 si insegna ad avere una reazione immediata alla minaccia perché aspetta perché in quei primi nei primi secondi anche l'altro è a mille nella sua attenzione quindi qualunque micro movimento lui percepisce e magari sferra un'offendente e l'attacco invece quindi nel se nella minaccia qualora io decidessi di intervenire perché ho valutato che era il caso di starò io a scegliere cosa come e quando di fronte ad un attacco cosa come quando l'ha scelto lui ti dovrai difendere da uno schiaffo ora capito cioè e quindi è completamente diverso e a proposito di questo di questi livelli tu che ti aggiorni su questo tipo di di materie qui esiste ancora il codice di colori di cooper oppure ormai superato no 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 lo si usa lo si usa e lo facciamo riferimento e facciamo riferimento a questo nel contesto che ti dicevo prima dipende dello stato mentale il codice bianco quindi inconsapevolezza del contesto dello scenario eh sì sei sveglio dal punto di vista degli occhi aperti ma sei del tutto inconsapevole di ciò che ti circonda di chi ti circonda non hai notato di persone che magari ti seguivano già da due chilometri non hai notato che entrano nello stesso bar o ti ha atteso fuori dal bar eccetera eccetera non hai valutato se era il caso di prestare maggiore attenzione quindi poi oggi voglio dire sempre di più camminare scrivere messaggi cuffie al telefono cuffiette eccetera eccetera quindi tutte queste piccole cose che ti distraggono dal contesto quindi l'idea che ti dicevo prima una mente pronta dove ritieni di ok potrei essere vittima di un'aggressione è quello che viene definito codice giallo cioè consapevole del contesto no quella la mentalità ti pone nelle condizioni di poter passare agilmente a livelli superiori se stessi solamente nella condizione bianca inconsapevolezza il mio step successivo è quello che viene definito codice nero ovvero panico certo quando io sono nel panico che è diverso dalla paura la paura la puoi utilizzare a tuo favore la devi utilizzare a tuo favore il panico invece è punto nero non non sai più chi sei dove sei quello che stai fare quello che potresti fare cioè è diventa ingestibile per chiuno tornando al discorso della lettura del del problema del perico della minaccia del nostro cervello dal dal punto di vista del nostro cervello in quel momento tutto l'aspetto razionale tutte le nostre capacità abbiamo fatto l'esempio del noi alla guida della nostra auto no quanto tempo per leggere la minaccia di percepirla di elaborare un'adeguata risposta e quindi poi di metterla in atto questo che è frutto di un aspetto razionale in realtà poi deve essere approfondito dentro di me quanto più possibile ma ancora prima ho la gestione che noi valutiamo in una lite quando abbiamo un escalation verbale e poi riconosciamo in questo quando un entrambi tentano di prevaricare sull'altro come con il tono della voce ma ognuno ancora apporta a suo favore delle tesi che hanno un senso magari urlando però ognuno dice la sua quando capiamo che qualcosa sta venendo meno quindi la parte razionale comincia un pochino piano piano a spegnersi e quando non riesco più a portare avanti delle delle tesi o a terminare delle frasi di senso compiuto allora vuol dire che la mia capacità di ragionamento si comincia da affievolire nella gestione abbiamo questo in questa escalation cominciamo a riconoscere questi segnali e anche delle prime scariche di adrenalina quando magari capito che capito delle persone che mentre urlano mentre vanno a ripetere parti di parole non più frasi intere si danno delle botte sul petto sulle gambe sulla fronte sono dei piccoli scarichi di adrenalina che cominciano a essere ingestibili sono i segnali che questa persona non è più in grado di ragionare quindi è inutile che l'altro continua a portare avanti e la sua ragione l'altro non si sta più ascoltando e è da lì che quindi queste sono le fasi che noi indichiamo come i segnali del pericolo e poi c'è la preparazione quindi vediamo il caricamento di una spalla un passo indietro il braccio che si prepara ecco sono tutti quanti fattori che indicano un attacco imminente dall'altra parte l'attenzione per chi è abituato a riconoscere questi segnali e di ok questa persona non mi sta più capendo adesso basta è inutile cercare di calmare vedi con le mani che tendono ad andare dall'altra parte perché io invado il suo spazio e mai succedesse che le mani si dovessero toccare può essere una scintilla quindi mani a casa mia tono basso passo indietro non volto le spalle perché il meccanismo è identico io prima ho fatto riferimento al nostro cane noi funzioniamo nella stessa maniera in quelle condizioni quindi nel momento in cui volto le spalle lì la fase più pericolosa no passo indietro voce calda bassa ok cerco di calmare do anche la ragione perché tanto ormai non mi serve io se prima dovevo gestire combattere per una certa situazione e qui devo gestire un'altra adesso che è un potenziale scontro quindi devo cambiare radicalmente la mia operativa di lavoro e questo proprio perché sappiamo come funzioniamo quindi man mano che la parte più esterna si comincia a spegnere arriviamo nella parte più profonda c'è valorettiliano io da lì non sto più parlando con una persona sto parlando con un essere in quel momento fuori controllo ed è qui possiamo volendo dire bene quindi tutto questo quale tecniche funzionano numero uno ci manca anche un altro aspetto però con cose a no no vai prima poi ti chiedo con cosa inizi cosa mostri per prima cosa ok allora finisci prima no no io ho finito questa parte qua è finita cosa mostri allora chi parte da zero chi parte da zero abbiamo detto fin dall'inizio valutare la minaccia la valutazione della minaccia viene messa in campo con degli strumenti che siano essi a mano nuda con un coltello un'arma da fuoco un bastone questo vengono definiti sistemi come funziona il sistema arma da fuoco come funziona il sistema mano nuda come funziona il sistema coltello ok io quindi devo individuare il sistema con il quale l'altro mi sta minacciando e aver lavorato già elaborato il concetto di come devo disabilitare il sistema come si disattiva il processo di fuoco di un'arma da fuoco perché un coltello taglia sappiamo tutti perché un coltello taglia però sappiamo perfettamente che non agisco sul coltello io agisco sul braccio armato quindi devo come gestisco un braccio armato lo ferro per il polso non mi faccio niente cioè questo braccio continuerò a muoverlo quindi devo capire come gestisco quel braccio la mano nuda il corpo noi siamo in grado di tirare di sferrare dei colpi micidiali o anche in grado di assorbire dei colpi importanti grazie ad un elemento che si chiama equilibrio quindi il sistema corpo si basa sull'equilibrio finché noi siamo in equilibrio possiamo portare dei colpi muoverci con rapidità fare delle schivate bloccare via dicendo se sono fuori equilibrio tutto questo non sto più in grado di farlo quindi tatticamente qual è l'idea io mantengo il mio equilibrio mentre cerco di porre l'altro fuori equilibrio è quello che studiamo normalmente no nella nostra pratica quindi e qui cominciò a crearsi quindi le connessioni con il mondo classico le arti marziali quindi cosa insegno per prima insegno a gestire il proprio equilibrio quindi la tua posizione che sia la quindi la posizione di dialogo quindi come mi metto di trovare il mio equilibrio quale sono le qual è la mia posizione qual è la posizione delle mie mani mani in tasca mani dietro mani faccio subaccio giù tutte e due sopra cosa ci devo fare con queste mani 1 2 insegno quindi la posizione di pronti per una eventuale reazione e a gestire posizione e spostamento da lì i primi colpi della meccanica eseguibili con la meccanica del corpo corretta strumenti basici che può usare chiunque ma con una corretta meccanica del corpo lo vedono poi ad impatto in modo che si rendono conto di cosa vuol dire impattare contro qualcosa ed imprimere potenza profondità all'attacco quindi queste sono le prime cose dalle quali parte poi vado ad incrementare le opzioni questo è la diciamo la progressione del lavoro però parto dall'equilibrio quindi posizioni e poi passi agli spostamenti credo sì e posizione spostamenti colpi posizione spostamento e colpi poi strumenti e quando noi c'è un esercizio che chiamiamo universal drill dove utilizziamo tutto nella stessa maniera meccanica del corpo poi ci sono esercizi specifici che sono inerenti alla specificità dello strumento il coltello il pugno il calcio la ginocchiata la gomitata quello intendi per strumenti in questo caso sì ma quelli sono strumenti personali poi abbiamo gli strumenti gli strumenti dei propri strumenti quei quali potrei difendermi quindi dal bastone la torcia il coltello un'arma da fuoco e via dicendo che hanno tutti loro hanno una specificità d'uso però alla base adotta la stessa meccanica quindi utilizzerai un'arma da fuoco un'arma da impatto uno spray un'arma da taglio i tuoi strumenti personali con la stessa modalità proprio lo stesso esercizio sono decisamente apposta che ti preparano a questo perché non ha il tempo e poi perché lo stesso strumento può essere utilizzato in scenari e con livelli di forza differenti non è detto che un'arma da fuoco deve per forza sparare ok non è detto che un bastone debba per forza di cose colpire da lontano non è detto che tu possa utilizzare tutti questi strumenti della posizione retta magari questa è terra e una serie di situazioni Andrea credi che ci sia una differenza tra autoprotezione e difesa personale? Sì sì io utilizzo molto di più il termine non a livello magari mediatico perché tante volte la comunicazione indica la trasmissione di un messaggio e se per riportare un messaggio utilizzo un termine poco conosciuto il messaggio non lo sto veicolando eh sì come il termine arti marziali sappiamo che può essere sbagliato quanto vuoi però è arti marziali devo veicolare quello devo veicolare quello no? quindi parlo di difesa personale poi posso anche indicare il metodo così gli addetti ai lavori ah ok poi per l'utenza generale che è al di fuori di questo di questo di questo mondo io cerco un corso di difesa personale bene però per gli addetti ai lavori c'è una differenza e a me piace utilizzare protezione personale per due aspetti uno perché da punto di vista concettuale uno ha un aspetto più tattico quindi io metto in campo delle situazioni utili a proteggermi quindi io sto facendo un lavoro tattico oggi fa freddo prendo la sciarpa affinché non mi ammali quindi ho fatto un lavoro di protezione se sono incurante di questo perché non ho considerato la temperatura esterna che era una brutta giornata eccetera eccetera esco comunque come con la camicetta leggera mi amalo quindi mi trovo di fronte alla e devo utilizzare per forza lo sciroppo che a sua volta mi causerà dei danni al fegato quindi cioè e tutto invece era risolvibile con la protezione che è prevenzione invece passo già al fatto vabbè tanto se poi mi amalo mi prendo lo sciroppo e non va bene magari confido invece nella mia soluzione eh di potermi difendere utilizzare delle tecniche però senza considerare che quella tecnica quella condizione mi porterà poi a dovermi giustificare in tribunale certo certo e qua si va si va poi al discorso legale esatto cosa posso fare per esempio se sei un buttafuori eh come già gestisci la cosa tu non puoi praticamente fare male sei sempre a titolo personale stai lavorando quindi alla fine mentre la difesa personale mi piace meno perché il concetto di difesa ti pone nella dal lato della persona che menta che sai qual è l'immagine ogni parola ogni parola crea nella nostra mente un'immagine ok io mi devo difendere ok mi vedo piccolino contro un aggressore una persona che tenterà di reagire di fronte a un suppruso e quindi mi mette sempre nella condizione negativa no e invece no io mi voglio vedere nella parte della persona attiva che decide per se stesso ecco perché io decido di mettere la sciarpa per non ammalarmi io decido di mettere in campo dei comportamenti che siano informativi e formativi per me stesso e per le persone a me care quindi non sono io sono una persona attiva sono un agente attivo non sono un agente passivo che quindi mi devo difendere ecco è sottile certo no c'è sono anche come come mentalità cioè se io ho la mentalità del della preda resto comunque preda al di là di quante possa conoscere se invece non dico di pensare da predatore ma comunque di non di non valutarsi in quanto preda o in quanto parte passiva cambia cambia tantissimo dal punto di vista mentale per esempio l'aspetto mentale è fondamentale è tutto lì uno dei uno dei quattro punti iniziali del del percorso formativo che offriamo è talmente importante che è il secondo punto nella scaletta di presentazione è il quesito parafrasando Shakespeare agire o non agire però è un quesito importante perché di fronte alla situazione agisco non agisco perché ho ritenuto che sussistano sussistano i presupposti legali e tattici e tecnici perché ho gli strumenti per poter gestire la situazione ok e quindi ho deciso di agire e ho valutato le conseguenze del mio scegliere di agire perché un conto è ah io faccio questo ma hai pensato alle conseguenze del tuo agire le hai accettate come va va sei pronto ad accettare le conseguenze del tuo agire quindi la scelta di dire agire sì io agisco ok hai fatto la tua valutazione ma nel determinare questo di aver valutato anche le conseguenze del tuo agire l'altra opzione è non agisco ok non hai agito perché ritenevi che non ci siano le condizioni o non hai agito perché non sapevi che cosa fare e hai accettato le conseguenze del tuo non agire io non ho agito perché che potevo fare ok però dato che tu non hai agito quella persona che ti è prestata adesso è morta non è una tua responsabilità diretta per carità ma ogni giorno dovrò pensare a questo certo quindi agire o non agire è frutto di un'elaborazione che devo fare prima agisco o non agisco fino a che punto potrò agire utilizzo un'arma oppure no sono disposto ad accettare le conseguenze del mio agire oppure no decido di non agire e sono conto alle conseguenze del mio non agire conseguenze morali e legali morali e legali in alcuni casi quindi sono tutte valutazioni che vanno fatte nella fase formativa non nel momento di tutti noi abbiamo in mente la canzone della guerra di Piero di De Andrè ora ci devi pensare quando ti puoi allenare quando puoi chiedere quando hai tempo non in quel momento perché quell'attimo di situazione potrebbe risultare fatale perché hai il pensiero perché è una persona coscienziosa con dei valori etici morali eccetera eccetera una persona corretta onesta giustamente ha degli scrupoli anche a dare un pugno sul naso voglio dire no però chi si pone questo problema solo deve porre profondamente intimamente cioè la difesa non è solo una questione di mosse mi fa vedere una mossa non è solo questo il problema il problema è una questione di valutazione profonda quindi è molto più no infatti 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 e dato che è molto di più io credo che non la riusciamo a esaurire neanche stavolta vabbè io direi che restiamo restiamo per la prossima volta organizziamo con la persona specializzata nella nella questione dal punto di vista giuridico cosa va a succedere ok sai cosa potremmo fare anche eventualmente una parte un pochino più tecnica magari tra i video che potremmo presentare dei video da analizzare che non siano insomma diciamo non cruenti ecco accessibili non andremo ci scusiamo con gli utenti per magari non andiamo a analizzare fatti particolari ecco voglio dire leggeri dove però magari si possono vedere analizzare alcuni aspetti nel punto di vista tecnico una cosa che mi piacerebbe definire è proprio questo questo aspetto tra arti marziali e difesa personale quanto l'una entri nell'altra io ritengo che l'esperienza delle arti marziali sia fondamentale fondamentale per qualunque insegnante che si occupi di difesa personale certo cioè mentre non è richiesta la pratica delle arti marziali all'interessato alla difesa personale ritengo che sia fondamentale perché un insegnante non può non avere conoscenza di come si trasmetta una termina tecnica di come si mantenga l'equilibrio come si insegni perché qualunque insegnante è stato studente e praticante e quindi ha acquisito automatizzato una struttura didattica per poi poterla poter trasferire queste ad un allievo se io conosco l'origine di una ginocchiata la posso anche snellire renderla veramente semplice però ne conosco le radici meccaniche quindi io so quali sono le abilità quali sono i requisiti tecnici per poter eseguire anche una tecnica semplicissima perché conosco il motore posso scremare ma non il contrario non può essere il contrario poi qualunque arte marziale senza fare senza arrivare alle origini però ogni arte marziale ha in realtà in sé tutte le arti marziali del globo si ponevano il problema di risolvere un conflitto e quindi tutte prevedevano l'uso di armi colpi corpo a corpo in piedi e a terra perché il combattimento era tutto questo è nell'evoluzione che piano piano ogni arte si è andata un pochino a specializzare io ho studiato karate nel karate abbiamo le leve sì così come nel judo ci sono gli atemi i colpi sì domanda in percentuale di ore di lavoro quante volte all'anno le dai un judo che ha quanti pugni dà un un karate a quante ore lotta quindi è questo no poi ci sono anche scuole scuole insegnanti insegnanti scuole che hanno mantenuto più un approccio più classico cercando di colmare tutte le aree in maniera curata attenta altre un pochino meno altre che approcciano anche l'aspetto sportivo chi solo sportivo insomma io non faccio un discorso di scuole ma ampio cioè volo alto nel senso che non voglio entrare nel dettaglio della singola scuola singola insegnante o altro tutti i sistemi sono più che validi voglio dire però se poi voglio parlare di difesa voglio trasmettere l'arte ho un percorso e metto la tecnica e l'arte al centro se voglio trasferire un concetto applicabile sulla difesa personale allora quante ore ho dedicato a spiegare agli allievi come analizzare correttamente una minaccia gli aspetti legali gli aspetti psicologici gestione dello stress eccetera eccetera poi c'è la modalità di allenamento dove mi alleno quante delle tecniche pratico nella lotta sul tappetino sono riproducibili sull'asfalto del parcheggio quante sono quante calci sono praticabili con dei jeans o con un abbigliamento urbano normale e via dicendo no quali strumenti potrò avere con me quale di queste tecniche posso utilizzare in un ascensore o all'interno di un locale o nell'auto quindi sono talmente tanti gli scenari che io ritengo che ogni artista marziale abbia gli strumenti per poter praticare e insegnare la difesa personale con la onestà intellettuale di dire ok ho una base marziale importante e in realtà poi la difesa personale è fatta di letture di confronti di studio ascoltare le esperienze delle persone che vengono alle nostre classi e ci raccontano le loro esperienze e quant'altro quindi tempo però il presupposto c'è e ritengo che ogni iniziente di difesa personale debba avere una importante formazione marziale se a questo si dovesse raggiungere delle importanti esperienze operative meglio io ancora è ancora meglio per carità solo esperienze operative non sono sufficienti per poter insegnare tecniche di difesa personale perché non hai tu utilizzerai un'arma utilizzerai ma un'uda utilizzerai il corpo quindi di rivolgere il corpo quindi ecco è un insieme di di elementi che possiamo sviscerare in un prossimo round ok ok Andrea spero che sia stato nel tempo ci organizziamo e ti faccio sapere a stretto giro in quanto tempo riusciamo a fare una terza parte a questo punto d'accordo sembrava più leggera come? sembrava più leggera no 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 perché io lo so quando quando si comincia a parlare di alcuni argomenti diventano talmente poi soprattutto se uno li mastica se legge si approfondisce se va a fare esperienze e non si e non si ferma lì alla palestra sotto casa andare due o tre volte a settimana e torna a casa non si finisce mai soltanto parlare di di parlare di arti marziali ma è un è un discorso che si allarga a ventaglio verso neuroscienze questioni illegali e e poi e come dicevo prima il discorso della responsabilità nel momento in cui sentiamo la responsabilità di tenere un corso di difesa personale ci rendiamo conto che poniamo automaticamente al centro la persona la vita della persona la sicurezza della persona in senso ampio del termine di chiunque e e questo e anche noi è assingato di poter tutelare veramente ovviamente non immagino penso o una convinzione astratta ma oggi esatto la persona che sta con noi quindi questa responsabilità no magari magari siamo con una persona anziana e dobbiamo trovare il modo di evitare perché non sappiamo che può andare a succedere se la persona anziana si spaventa troppo cioè per dirti qualche tempo fa una delle classiche situazioni che accadono quando si è su strada un diverbio banalissimo così che ho spento subito ma quest'altra persona che non solo ha fatto la scorrettezza ma in maniera del tutto arrogante poi è venuta provocando ma era in compagnia di suo figlio ma aveva avuto una decina d'anni cioè tu non sai con chi stai litigando con chi staresti andato a litigare e sei in compagnia di tuo figlio cioè è stato doppiamente incosciente per se stesso in primis ma soprattutto nei riguardi del proprio figlio perché io potevo essere il primo dei delinquenti e tu non lo sapevi e tu hai messo di fronte a un grave rischio il tuo figlio per cosa? per cosa per cosa per cosa siamo a litigare insomma quindi sono tante situazioni che possono essere analizzate nel momento in cui io vivo la responsabilità di questo e quando viviamo la responsabilità di questo e mettiamo al centro l'utente del corso di difesa e non più noi stessi la nostra scuola o quello che rappresentiamo eccetera eccetera ci rendiamo conto che per lavorare al meglio non basti più tu hai bisogno di una squadra e nella squadra ci sono magari amici avvocati amici psicologi amici delle forze dell'ordine che ti possono dare dei consigli il supporto di una società pulita che fa corpo contro una minaccia violenta e c'è un articolo vecchissimo che scrisse Tuonbill interessantissimo perché era titolato noi contro di loro e loro Tuonbill McGrath del Pechit Tirsia che ho l'onore di rappresentare in Italia lui diceva spesso nelle discussioni tra marzialisti diventa noi contro di loro dove loro sono gli altri praticanti degli altri stili a noi del Silat facciamo così quelle del Judo invece piuttosto che il Karate piuttosto che il Kung Fu il Kali contro cioè noi siamo tutti appassionati buoni cioè noi siamo la parte buona che magari ognuno per passione per scelta fa cose diverse ma con lo stesso intento cioè gli altri sono coloro che ci vogliono fare del male quindi noi siamo la parte buona poi che io pratico Karate e tu pratichi Kali non vuol dire nulla confrontiamoci per aiutarci ma per fare squadra contro contro chi? gli altri gli altri sono coloro che non rispettano le regole di una società pulita onesta e quindi questo è un punto di vista diverso ecco perché se ragionassimo in questa maniera pratichi questo pratichi quell'altro bene ok so su chi contare nel caso avessi bisogno no? certo è diverso ok e allora restiamo che la prossima puntata sarà dal punto di vista legale o ci potranno venire altre idee nel frattempo Andrea ti ringrazio ancora è stato un piacere farsi un ulteriore chiacchiere con te non in privato soltanto io e te ma comunque condividerla con chi ci ascolta e vi saluto e ci vediamo la prossima volta salutiamo ancora il maestro Andrea Citarelli grazie ancora dell'invito grazie a chi ci ha seguito è stato un piacere e ci vediamo piacere nostro piacere mio e ci vediamo la prossima volta e vi terremo aggiornati su quali saranno le novità per quanto riguarda la difesa personale a presto Andrea grazie ciao grazie per averci seguito ciao ciao l'audio